Ragazzi ma quanto è bella l'Umbria! Vedete stanotte ha piovuto, quello è il monte Subasio coperto dalle nuvole perché appunto stanotte ha piovuto di brutto e si sono venute a formare queste nuvole basse. Qui siamo nella vallata Umbra, ai piedi del monte Subasio, c'è Spello, c'è Assisi, sono a Trevi, mica come l'Ambrene Coerenza che ci fa vedere dei paesotti sfigati del Baden-Württemberg dove magari si guadagni bene ma dal punto di vista paesaggistico e culinario sono delle depressioni atomiche. I soliti video dell'Ambrene Coerenza dal Baden-Württemberg dove ci fa un po' di propaganda della Germania, guardate che belli i Monti Sibillini, questi posti sono fenomenali. Cerco di fare delle inquadrature non alla Lambrene Detto, più ferme possibili senza la danza dell'Ambrene Coerenza che ci fa anche rima. Speriamo che oggi non piova come ieri, ieri è stata una giornata parecchio piovosa. Per carità, dopo il giorno seguente come oggi è bello perché si vedono tutte queste nuvole sul cucuzzolo delle montagne come in questo caso, vedete? Che spettacolo! Che posti! Per carità, posti del genere ci sono anche nel Baden-Württemberg, non è che non ci sono, non è che non ci siano, scusate, faccio errori di italiano, non è che non ci siano, ci sono, ma insomma il Lambrene Coerenza ci fa vedere solamente i paesotti sfigati del Baden-Württemberg. Dopo ogni tanto fa video su posti belli del Baden-Württemberg, lui ci ha abituato con questi video un po' propagandistici dai paesotti del Baden-Württemberg, dicendo che in Germania è semplice guadagnare bene, è più semplice dell'Italia, quello sicuramente, ma non è proprio un gioco da ragazzi. Guardate che belle queste nuvolette, così basse che creano questo, sembra quasi un dipinto, ragazzi, bello, 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 bello. Questa è una parte dell'Umbria che a me piace di brutto, il Monte Subasio, con la cima coperta dalle nuvole, poi Trevi, Trevi è stupenda, Trevi veramente una cittadina magica, bellissima, non ci sono troppi turisti, nonostante sia un gioiello, perché purtroppo l'Umbria, purtroppo per fortuna, nel mio caso, visto che a me non piacciono le concentrazioni massicce di turisti, nel mio caso è buono che non ci siano così tanti turisti, ma è strano, perché comunque sia, è una regione bellissima, che non ha niente da invidiare alla Toscana, la Toscana che ha in più il mare rispetto all'Umbria, ma comunque sia, l'Umbria paesaggisticamente è stupenda, secondo me è anche più bella della Toscana, ma la Toscana a livello internazionale riceve più attenzione, grazie a posti come Firenze, Pisa, no, che solo Firenze, Pisa, Siena, Arezzo, solo questi quattro posti hanno un richiamo di turisti, scusate, stranieri allucinanti. Poi anche i film americani sulla Toscana contribuiscono sicuramente a rendere la Toscana una regione molto più famosa rispetto all'Umbria, è la stessa cosa anche i tedeschi, i tedeschi conoscono la Toscana, conoscono Venezia, i soliti nomi noti dell'Italia, cioè se gli dici l'Umbria, ai tedeschi ti dicono ma mai sentito dire l'Umbria? Dopo per carità ci sono stranieri che conoscono l'Umbria, non è che sia completamente senza turisti, però insomma per la bellezza che presenta, e guardate che paesaggi, è un po' una regione snobbata dai turisti. Buon ragazzi, per questo video è tutto, qui con questa inquadratura dei Monti Sibillini che dominano Trevi, un caro saluto dal Buzzo. Ciao ragazzi!